Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego dove salvare i propri video che avete registrato con OBS Studio ovviamente nella nuova versione di OBS andiamo un attimo sulle impostazioni, sulle dirette, andiamo su registrazione come puoi vedere qui c'è il percorso dove salvare i propri video quindi io che faccio? Creo una nuova cartella sul desktop, quindi clicco sul desktop, faccio nuova cartella e scrivo su questa cartella OBS Videos, seleziono così la cartella, faccio ok e non ci resta che fare una prova per farvi vedere come funziona quindi un attimo che si attivo qua, faccio avvio la registrazione per pochi secondi, termino la registrazione ora andiamo nella cartella che abbiamo creato, che abbiamo messo sul desktop ovviamente potete metterla su qualsiasi disco quindi ecco la cartella ed ecco il video voilà, quindi dove salvare il proprio video dopo aver registrato con OBS Studio spero tanto di esservi stato d'aiuto in questa nuova guida ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate like e noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!